. Grande Fratello Vip, tredicesima puntata, ci sarà un'eliminazione a sorpresa. . Oltre ad uno tra i nominati Walter Nudo, Martina Amdi e Stefano Sala, la puntata odierna prevede anche una seconda uscita dalla casa. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. . Ilari Blasi e Alfonso Signorini sono pronti per affrontare la nuova diretta del lunedì sera che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena. . Un concorrente nel corso della diretta riceverà una sorpresa speciale, si tratta nello specifico di Andrea Mainardi. . Durante la puntata odierna ci sarà spazio anche per un clamoroso colpo di scena che riguarderà da vicino, non uno, ma tutti i concorrenti rimasti in gioco, video. . Oltre alla canonica eliminazione fra i tre nominati, infatti, è prevista anche una seconda eliminazione a sorpresa. Arriva la sorpresa per Andrea Mainardi. . Nelle ultime puntate il Grande Fratello Vip è stato molto buono con i concorrenti. Tanti inquilini della casa, infatti, hanno avuto l'opportunità di vedere o di sentire amici e parenti ai quali sono molto legati. . . A quanto pare anche questa sera ci sarà spazio per le lacrime. La produzione del reality show premierà in tal senso Andrea Mainardi che negli ultimi giorni ha vissuto diversi momenti di sconforto dovuti alla mancanza delle sua famiglia. . Lori Del Santo, dalle incomprensioni con il gruppo alla lite con Mainardi. Questa sera si parlerà anche di Lori Del Santo. La showgirl nelle ultime settimane si è sentita molte volte incompresa dal gruppo. . La Del Santo in puntata avrà modo di affrontare anche il discorso che in settimana ha scatenato un'accesa lite con Andrea Mainardi. Il televoto settimanale e il colpo di scena della serata. . Nel corso della diretta verrà svelato l'esito del televoto settimanale che vede a rischio eliminazione Walter Nudo, Martina Amdi e Stefano Sala. Uno dei concorrenti nominati dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia questa sera stessa, perdendo di fatto la possibilità di conquistare il Montepremi finale. . Tuttavia, possiamo anticiparvi che nel corso della diretta vi sarà un colpo di scena inatteso. Stando alle anticipazioni, infatti, nel corso della puntata odierna ci sarà anche una nuova eliminazione a sorpresa, video. . . Resta da capire quale sarà il metodo che verrà adottato. Il concorrente nominato prima di uscire dalla casa dovrà comunque passare attraverso il voto del pubblico. Per votare ci sono diversi modi, ovvero tramite l'app Mediaset Play, via SMS oppure tramite Messenger. . . Cresce dunque l'attesa per una puntata che non mancherà di sorprendere il pubblico da casa. Il reality ormai si avvicina alle battute finali. .